Metodo fondamentale per capire quale sia la strada più efficace e breve penetrare a fondo tutti quei segreti, ricavare informazioni sotto degli schemi e vederci incentivati da qualcosa che osservando non avrà capo né coda che ti spingerebbe inoltre tutti i limiti Forse Dio capirà il mio gesto, no non posso Non soli io, non sarebbe giusto questo no Vi ingannerò con delle tracce e poi fuggirò da voi Non capirò un solo istante ma mi salverò Ho accettato i compromessi però non potrò rispettare i compromessi visto ciò che so Devo programmare un'altra via di fuga, disegnare passo a passo un'altra strada 19 indizi mi consentiranno di ritrovare gli elementi più opportuni Ricavando sempre nuove soluzioni Forse Dio capirà il mio gesto, no non posso Non soli io, non sarebbe giusto questo no Vi ingannerò con delle tracce e poi fuggirò da voi Non capirò un solo istante ma mi salverò Ho accettato i compromessi però non potrò rispettare i compromessi visto ciò che so Grazie mille Grazie mille